buonasera 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 siamo di nuovo qua per l'ennesimo time to 40k night è nostro piacere questa sera introdurvi due artisti di caratura estrema di chi parliamo stasera signore facciamo uno per uno io mi introduco il marione mario del pennino mario lo sai cosa stò per dire adesso una pletora di cagate che ti potresti dire l'uomo con il bagno più grande d'italia ok ho tentato di farmi adottare o alternativamente di sedurre ok gliottinatore seriale pensavo andarsi sui ravioli sì anch'io mi aspettavo il mariolo allora da dove nasce la questione del mariolo una volta non lo so io non c'ero quando è nata la loro ma io credo del cor che ho dedotto e che ho fatto mia è praticamente un giorno li vanno nel gruppo manda questa immagine di mario la cui testa è diventato un condimento per un raviolo tipo giapponese e da lì è diventato il raviolo mario e quindi il mariolo mario del pennino un artista è incredibile un illustratore facciamo vedere ciò che ha realizzato l'altro giorno in mezz'ora ha realizzato anche un gilliman che ha ricevuto una valanga di like sui nostri profili persona squisita grande giocatore di ruolo ha collaborato con un'infinità di aziende ha lavorato con un'infinità di aziende games workshop marvel panini non lo so dille più di le temi mario dillo ti passi vabbè disney e poi abbiamo qua con noi lascio la parola all'esimio collega allora è nota durante time to 40k un soprannome gli è stato dato come vostra malvagità o colei che ha in qualche modo terrorizzato il gruppo caotici dall'interno terrorizzando anche gli altri signori divana bate una delle mie illustratrici preferite ma credo che dovrebbe essere illustratrice preferite del 90 per cento di voi perché se non avete mai visto il disegno divana andate a cagare ragazzi ivana ha un'esperienza incredibile ha un portfoglio incredibile a partire da alcuni dei kickstarter di giochi di ruolo più di successo degli ultimi tempi ad arrivare adesso hai fatto qualcosa non lo sai non lo sai non lo potevo dire ma lo dovevi dire che non lo potevo dire adesso lo sanno non lo potevo dire chissà vedremo non lo potevo dire è stato il primo avanti apocalisse che edito da hacker un books già ho fatto per la prima papera della serata saranno molte e tante altre musica abbassa la musica per favore abbassa che stai traparando i vimpani vero che la musica di legge o sinfonica è meravigliosa ma vorremmo lasciare un udito a coloro che ci seguono qua in live e poi anche su youtube ragazzi dove la vedere ha fatto uno dei cazzo più belli del mondo del degli ultimi tempi e basta fine e poi poi simpatica e un'amica buonasera ragazzi comunque verrà tutto editato in posta non devo occupare questo è un'esemplificazione perfetta del rapporto che c'è fra me e nino vino vedi cioè fa queste presentazioni belle creative no esplosive bellissime e poi dopo gli devo riparare i danni c'è proprio federico antonino come funziona nella vita quotidiana così così purtroppo non c'è il programma per editare la realtà per soliditare i video no made non è registrato siamo live in questo momento ti sto leggendo ringraziamo le persone che sono arrivate un ringraziamento va senz'altro a ars manufattoria ok perdonami ogni tanto dei problemi cognitivi per i quali non comprendo l'ironia tutta colpa mia ringraziamo ars manufattoria che ha finanziato questo progetto ragazzi se dovete comprare roba a tema warhammer 40.000 andatela a comprare lì perché si risparmia e sono garanti di un ottimo servizio già che ci siamo punto esclamativo sconto potete andare a acquistare materiale di ratten glory con il 30 per cento di sconto per quanto riguarda digitale 5 per cento di sconto per quanto riguarda il fisico con i codici che stanno passando in chat time to pdf o time to 40k buonasera a tutti allora intanto ragazzi come state come state come come ve la passate cosa avete fatto oggi che avete mangiato è una delle domande che usiamo per rompere il ghiaccio all'interno di questi time to 40k night dai su ivano tocca a te dai cosa hai fatto oggi sono svegliato che direi già è un ottimo un ottimo fisiologiche varie lavorato ho mangiato i rustici della sera prima buonissimi i rustici arancini mozzarella in carrozza quelle robe la sicule molto molto salutari e poi ho lavorato e mancata la luce e non ho lavorato e torna la luce ho lavorato e poi ho fatto i miei funghetti ripieni ora i due funghetti ripieni si si può avere una ricetta di questi funghetti ripieni oppure è un segreto che si tramanda da anni sono sotto nda sei sotto nda per la ricetta dei funghetti ripieni la ricetta mi scriverà in privato è dietro pagamento fornirò ho capito ho capito scriviamo che la ricetta è sotto in idea da mettere da mettere agli atti mario invece com'è andata la tua giornata bene un po di più ho fatto quello che tu non hai fatto ho lavorato allora mario possiamo per una volta per tutte pensare questa faida certo davanti a lavorare la faida sarà finita però finché tu mi ha le dici e mezzo mi mandi messaggini che ti sei svegliato la faida si autodimente oggi è successa una cosa molto carina si è creato stamattina un gruppo per organizzare una cosa sotto nda vediamo di sputtanare anche questo ecco bravo bravo e appunto mario verso le otto e mezza manda un messaggio a gatta dicendo è inutile che chiedi l'opinione di nino tanto lui ti risponderà alle dieci e mezza signori io ho aperto il telefono ho risposto alle 10 e 27 credo di aver morgan buonasera di aver risposto è stato bellissimo ma mario possiamo accettarci a vicenda e dire basta convivere con il fatto che tu vai a letto alle undici e mezza io vado a letto più tardi e quindi ho bisogno di che ora vai a letto non è mezza le due io vado a letta luna quindi alessandro sono sveglio e quindi da questo questa storia finirà quando lui sarà vecchio in carta pecorito e dovrà ancora lavorare noi mario invece saremo ancora giovani nel piano delle nostre energie come no ivana stavi dicendo scusa con l'ansianità l'esigenza di dormire quelle otto ore diminuisce quindi ne passano infatti ne approfitto ne approfitto per lavorare poi c'è da dire che di notte secondo te la pisciata non gli scappa dai su via di no da una mario che aveva i 50 anni si viene bene e bisogna essere è vero è vero attenzione mario per i 50 si tiene si tiene abbastanza come dire anche per essere un fumettista insomma quello sì effettivamente è qualcosa di degenerativo devo dirvi che mario si 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 tiene bene devo dire che la tenso struttura mario del pennino sta sta su ok tra l'altro ci siamo visti questo sabato a bel gioioso è stata un'esperienza incredibile essere chigliottinati dal vivo è un'esperienza impagabile ragazzi dovete farlo tutti almeno una volta se no non non che l'ultima ma è una domanda qui in chat sono più team mario team nino ma che domande fai si non di lino che domande fai dai facciamo il piace ma è di moda bellissima c'è il flame attenzione presente quelle quei post ogni tanto girano questo sasso avrà più laiche di della ferragni ma fa questo sasso avrà più laiche di nino comunque vedo già una certa tendenza lasciata va bene va bene su dai c'è a per il paolo ragazzi non posso dire ma neanche perché lo stavo facendo io a me fatto il poll ovviamente sappiate che so che mestieri fanno le vostre madri ma non lo dirò ottimo modo per ringraziarsi la platea non c'è neanche un nino ragazzi non c'è neanche un mario ragazzi hanno scritto tutti cioè chi è che ha messo nino chi è questo qua che ha votato nino chi è che ha votato nino che venga fatto vip che venga fatto istantaneamente vip ecco chi è stato due che hanno votato nino due che hanno votato nino di entrare con sette account diversi dragon eagle tra poco finisce male io l'ho detto mi sembra che il sondaggio sia già chiuso va bene ok per quelli di youtube abbiamo fatto un sondaggio e in questo momento ci sono tre voti per nino 13 voti per mario e anche stasera una vittoria ringrazio il pane per questo giro io va bene va bene allora dai deponiamo le asce di guerra e andiamo a conoscere questi creativi io direi facciamo giusto una domanda introduttiva sul 40 mila e poi ci facciamo i cazzi vostri quindi allora fazione preferita e quella meno preferita vado io ah vai vai allora fazione preferita adeptos oroidos devo motivare oppure così secca non c'è bisogno di motivarlo la fede la fede non si può le donnone in armatura ivana le donnone in armatura la fede proprio quella che piace a nino invece quella non ce n'è una che odio palesemente però quella che mi piace meno troppo sono i tau perché non gli trovo un senso non trovo un senso ovvero i tau perché sono esteticamente li odio mi dispiace ma come sono bellissimi sono i gundam da notare che a lui gundam non gli piace non gli piacciono ma gli piacciono i tau no ma non è una contraddizione scusami in questo ti sono vicino no ma a me i gundam sono belli esteticamente non mi attira tutta la lorca c'è dietro però esteticamente sono belli ma infatti i gundam nel loro universo cioè i gundam nell'universo di kuram bravo io mi trovi d'accordo nel senso i gundam devono restare nell'universal century a picchiarsi con altri robottoni giusto io vorrei sapere cosa sta facendo in questo momento nino per riuscire a vedere solo la sua fronte cioè ragazzi la mia fronte può parlare per me guardatela che bella incredibile ecco qui esatto dai eh mario allora io non so esattamente quale possa essere la mia fazione preferita potrebbero essere o i tiranidi perché esteticamente secondo me sono la fazione comunque più varia più fantasiosa ecco l'altro che gli piacciono gli scarrafoni vai che ti offre un sacco di mostri fighissimi e poi comunque tutta la logica del funzionamento dei tiranidi è fighissima quindi loro sono e poi sono effettivamente la grande minaccia dell'imperium per cui i tiranidi sono proprio figli ti rimandano un po' un po' ad alien e quindi hai quel quel fascino anche un po' anni 80 belli 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 e poi i biotitani ma che figa se no nell'imperium perché poi alla fine dopo a finire lì ti direi i dark angel perché sono tamarri perché sono le casatte ci sono i traditori allora ok perché? vabbè meme della community no quelli sono sempre stati fighi sono molto medievaleggianti sono belli però devo dire ecco forse quella che mi ispira di meno sebbene in verità è che c'ho avuto meno a che fare e anche quando si 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 parla di lore forse sono quelli un po' meno cagati sono i dark elder ma perché? non lo so li vedo un po' sempre visto un po' un po' sto fetis c'è il latex anni 90 non lo so anche vedendo i modelli sono quelli che mi ispirano di meno poi c'è della roba bella anche lì però rispetto a quello che trovo nelle altre fazioni cao compresi secondo me sono un po' più poveri proprio parlo di di aspetto grafico certo e quindi direi che il dark elder sono l'ultima fazione che giocherei ci sta ci sta forse sono quelli un pochino più scagati effettivamente sono quelli un pochino più trascurati anche gli elder non è che abbiano della roba incredibile dal punto di vista di miniature però comunque ce n'è di più ne senti più parlare sono più all'interno dei meccanismi dell'ambientazione quindi sono un gradino sopra poi anche loro sono lì io ho una domanda proprio rapida risposta secca il modello preferito vostro uno dei modelli il modello che più vi piace di Mamma Giubi oddio io lo so ho pensato a uno no vabbè dai Morven Wall lo sapevo perché anche il mio dopo Angron è pure il mio quindi eh sì però cioè sono proprio affezionata ho avuto un imprinting appena l'ho visto il cavolo di poi secondo me c'ha l'art più figa di tutto Warhammer che è quello dove si vede proprio tutto il modello così con lei dietro quello sfondo verdino strafigo no no l'art è molto figa sì 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 sono d'accordo devo dire rispetto ad altre poi del codex spicca spicca un bel po' quindi sì sono d'accordo Marione? ti direi Mortarion beh eh vabbè rizzica beh però in verità c'è diciamo che è veramente difficile scegliere per esempio i anche i Necron hanno dei dei modelli ultimamente hanno terto fuori delle robe incredibili quelle dove c'è Lockdown con tutti i pezzi che ruotano attorno cioè Zarek Zarek eh parlando di Zarek della roba anche loro che non ha senso nell'Imperium vabbè Space Marine talmente tanti modelli che ce ne sono anche di belli però tendenzialmente secondo me quelli dove riescono a dare più più figaggi sono i modelli un po' più grossi un po' più articolati quindi lo Space Marine per quanto sia figo hai comunque anche meno materiale su cui lavorare perché lo Space Marine è quello gli fai l'armatura più figa lo agghindi un po' di più ma rimane comunque lo Space Marine invece quando puoi andare su completamente libero quindi magari il trono volante di Necron sto pensando nei tiranni di insomma la Tervigone no scusa la Trigone il serpentone era fighissimo allora io a bel gioioso ho visto delle miniature di altissimo livello e posso dirvi che i primarchi montati i primarchi finora usciti quindi parlo primarchi di 40k finora usciti montati su un diorama fatto a modino hanno un impatto incredibile incredibile e vedere dal vivo è un'altra roba cioè li vedi in foto ma non rendono ma tu rendono dal vivo una roba spettacolare l'emissario della Nord lo screamer killer ma ce n'è un botto i piranelli che sono belli ce n'è veramente un botto ma io sposterei la questione e vi farei subito una domanda un po' strozza ve la farei subito una domanda un po' forse ne abbiamo già parlato anche in separata sede forse anche con Mario non lo so non mi ricordo vabbè io ve la faccio lo stesso allora fenomeno intelligenza artificiale minchia così così me l'aspettavo me l'aspettavo così ok cattiva fenomeno intelligenza artificiale ruba il lavoro a quanti a chi è un problema non è un problema ritengo che Ivana abbia tanto da dire anche perché ne abbiamo già parlato più di una volta no vabbè ma ti dico allora lo strumento in sé può andare bene nel senso è il naturale progredire dalle tecnologie eccetera eccetera il problema è come funziona per ora perché diciamo che le maggiori AI funzionano perché sono alimentate da opere d'arte rubate quindi prese senza il consenso quindi il modo in cui funzionano adesso non va bene però lo strumento in sé non è qualcosa di malvagio anzi potrebbe anche andare a supporto dell'artista perché alla fine non fa altro che compiere una ricerca di reference un po' più un po' più profonda un po' più velocina e via quindi non sono assolutamente contro lo strumento in sé ecco che poi rubi il lavoro magari per le comintenze private però attualmente una casa editrice non è che può fare la roba con le AI oddio ne ho visto alcune effettivamente ultimamente farle però non so quanto possano essere a norma di leggere queste cose quindi secondo me una casa grossa come banalmente GV non si permetterebbe mai di fare la roba con l'intelligenza artificiale almeno per come funziona attualmente ti posso svelare una cosa che ho scoperto sto pomeriggio certo se metti su mi giorni style by Ivana Abate mi giorni ti fa le cose con il tuo stile questa cosa questa cosa mi ha non elegantissima come cosa mi ha fatto mi ha fatto impazzire non elegantissima come cosa ma io ho volevo provare volevo solo provare volevo solo provare ma ovviamente non mi permetterei mai di rifare di rifare una cosa del genere non lo faccio mai se faccio un'immagine con l'intelligenza artificiale perché lo sapete io l'utilizzo e la mia risposta è hanno fatto una cosa secondo me schifosa ovviamente come lo fanno con tutti gli artisti quando prendono il loro materiale senza dire niente ma la soluzione secondo te Ivana qual è? regolamentare il tutto cioè se vuole esistere che si appoggi a un insomma un roster di immagini che su cui abbia i diritti o insomma che le abbia comprate quanto meno di certo io non ho dato l'utilizzazione ma infatti io me ne sono accorto perché fa io ho detto porca miseria che bassezza io non ho dato la consenza a nessuno anzi su Instagram ho bloccato tutta la roba per consentire bla 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 stessa cosa su Artstation ma c'è un movimento adesso mi verrebbe da dire no? cioè i dipendenti hanno il diritto di sciopero ok? e in quella maniera possono far sentire la propria voce c'è un movimento che parte dal basso che spinge per una legislazione domanda onesta perché sono ignorante in materia allora c'è Lorenzo Cercotti che in questo momento anzi da un bel po' si sta muovendo per insomma portare arrivare a una normativa europea che è regolamenti il tutto però come insomma ben saprete come potrete immaginare ci vuole tanto tempo finché queste cose facciano rumore e arrivino dove devono arrivare non sono aggiornata sull'ultimi il problema fondamentalmente è che il mondo dell'arte nel senso dell'entertainment dal punto di vista artistico non muove abbastanza soldi e quindi tutto l'occasione che si può fare possiamo fare noi è molto limitato Mario ci sei anche tu ci sei anche tu sull'intelligenza artificiale comunque è un'immagine Nino assolutamente sì assolutamente sì quando questa cosa ha toccato altri ambiti tipo la musica o il cinema e lì hanno cominciato a incazzarsi gente più allora in America perché ovviamente stiamo parlando poi di quello le cose si sono fatte sentire e quindi diciamo che si arriverà probabilmente avere una legalizzazione della cosa quando effettivamente gli interessi in gioco saranno abbastanza elevati per giustificarla e forse si spera però diciamo che noi in quanto artisti credo che possiamo fare poco anche perché nel senso sì tu dai il neghi il consenso su Instagram su Artstation però cioè boh mi sembra un po' inutile nel senso figurati fai la ricerca da 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 google non riescono a bypassare questa cosa qua evidentemente sì perché se Nino oggi l'ha fatto ma attenzione comunque la tua roba la ricaricano ovunque ma infatti su internet la roba puntualizzo una cosa che è la mia idea cioè nel senso è allo stesso livello del rubare per quanto mi riguarda cioè il problema è che sono riusciti a eludere un copyright che purtroppo è veramente schifoso allora io ti dico una cosa cioè l'approccio che ha la Yi è simile a quello che ha l'umano cioè guarda tante immagini e prende ispirazione lo faccio io suppongo lo faccia Ivana vedi magari un personaggio disegnato in un certo stile ti piace ti gasa e ne fai uno simile il problema qual è è che la Yi riproduce questo meccanismo in serie e con una velocità tale che ti fa gocita nel senso io che un attimo Beatrice basta se fossi un gatto eh no e io che copio copio prendo ispirazione da un'altra da un'altra autore e comunque rielaboro anche l'intelligenza artificiale rielabora perché metti insieme un pezzo mio un pezzo di quell'altro per esempio quando i ragazzi a suo tempo sulle live mi chiedevano ma come faccio per trovare il mio stile io dicevo guardi attorno ti piace un autore lo studi lo riproduci un po' poi ne scoprirai un altro che ti piace anche lui studi quello e pian piano mixando pezzi trovi il tuo stile quindi il processo non è una roba aliena è la velocità e da un certo punto di vista anche forse la precisione che può arrivare a cui può arrivare la macchina è quello il problema però c'è un altro problema io e te quando prendiamo ispirazione da un'opera prendiamo ispirazione e basta non è che la riproduci se no quella sarebbe una chiara violazione dei diritti dell'immagine è capitato di vedere su immagini prodotte da intelligenza artificiale dei volti o delle pose identiche a insomma artwork originali ma secondo me quello è un problema semplicemente di non discrimina quello sicuramente però è un problema semplicemente di raffinatezza dell'intelligenza artificiale probabilmente all'inizio prendeva pezzi e mixava adesso già probabilmente può fare un passaggio in più e il problema non è quello cioè non è che nel momento in cui tu mi reproduci qualcosa che non è un pezzo ritagliato da un'altra opera che risolve il problema cioè nel momento in cui io ti faccio io intelligenza artificiale ti faccio 10 artwork in stile divana dove nessun volto è un volto divana però te ne faccio 10 comunque col suo stile in 5 minuti il problema rimane quindi è una cosa alla base lì cosa potresti fare idealmente ogni volta che un'intelligenza artificiale assorbe da un'opera ti arrivano dei soldi fantascienza ok ma non lo vorrei nemmeno sincero a parte che tra i due preferirei che proprio uno lo facessero però però raga cioè sarebbe meglio di niente ah sì ma al lato pratico come fai ci arriva un bonifico da parte di mid journey dai a chi arriva dovresti collegare ogni tuo profilo ogni tua presenza in internet cioè sapete qual è il problema che lei ha fin da subito e allora raga voi lo sapete quanto io sia vostro fan sia di Mario che di Ivana cioè io sono fissatissimo con le illustrazioni vi seguo sempre il problema è che hanno reso le intelligenze artificiali accessibili a tutti ma che ci sta nel senso che per esempio il gruppo voi che usate l'intelligenza artificiale per fare l'art del personaggio per la vostra giocata ma va bene perché noi non state rubando tendenzialmente soldi perché è difficile sì ma comunque ci sono progetti dove il budget non c'è quindi uno non è che andrebbe dall'autore uno non farebbe senza o recupererebbe semplicemente un'immagine da google e la piazzerebbe lì qui te la fai tu più o meno come vuoi e va bene quindi nell'uso più o meno privato ma va bene cioè oppure l'uso che ne faccio io a volte è quello proprio di un discorso di di brainstorming no butto giù un paio di concept e vedo magari mi genera qualcosa di nuovo che io non avevo pensato mi dà uno stimolo in più e poi prendo e rielaboro chiaro e anche lì ma ci sta è l'uso buono che ne puoi fare io mi son fatto un'idea ditemi cosa ne pensate da totale profano quindi potrei star per sparare delle gastronerie enormi mi son fatto l'idea che gli illustratori di alto profilo quindi quelli che hanno sviluppato e hanno dimostrato una professionalità sopra la media riusciranno ancora ad avere mercato mentre per la fetta degli illustratori più basici fra virgolette quella fetta di mercato andrà a ridursi sempre di più in favore dell'intelligenza artificiale questo perché perché laddove c'è budget comunque è come quando prendi una scarpa in pelle fatta in una in una fabbrica o una scarpa in pelle fatta da un calzolaio da un artigiano cioè il tempo la materia il know how per farla impreziosisce e dà valore intrinseco all'opera stessa quindi chi chiunque abbia intenzione di o avere un prodotto di alta qualità per x ragione o di proporre magari ad un pubblico un prodotto di alta qualità secondo me continuerà a rivolgersi agli illustratori ovviamente quelli di alto profilo in grado di tirare fuori dei prodotti creativi innovativi per quanto anche gli illustratori come avete detto correttamente voi prendono spunto inevitabilmente da un bagaglio culturale che si sono fatti nel corso degli anni però ecco a me piace molto l'idea che comunque la qualità e la manualità abbiano quel valore intrinseco che non perderà valore perché esistono comunque le IA quella è una cosa che mi piace tanto che noi per Time to 40k abbiamo avendo avuto fortunatamente un budget commissionato tutte le cose principali a degli artisti fra cui vogliamo ricordarlo gli artwork li abbiamo chiesti a Mario dei personaggi per quanto riguarda le immagini insomma dei layout degli overlay io volevamo trasmettere quel senso di è una cosa fatta con impegno con cura con una conoscenza io credo che la parola artigianato vada conservata è fondamentale in tutto in generale appena una cosa diventa in serie perde di valore perde quella cosa e l'IA è questo ma infatti ora c'è una saturazione a livello visivo cioè quante immagini vedi prodotti con IA anche ispirate all'universo di Warhammer ne vedi così tante che ormai non nemmeno ti colpiscono più cioè se prima una immagine in particolare magari fatta ad un odore ti colpiva non lo so ti trasmetteva qualcosa ora ne vedi così tante che sei saturo e non ricevi più nulla cioè almeno questo è l'effetto che sto subendo un pochino io e questo è un è un problema che è un problema condivido cioè riesci a riconoscere che è un prodotto low budget e non ti trasmette lo stesso calore ragazzi ma l'emozione che abbiamo credo che è l'emozione che abbiamo provato io e Federico sabato che abbiamo visto nascere dell'arte dei disegnini che Mario ci ha regalato bellissimi credo sia stata impagabile cioè vedere il processo di proprio ci sta ma come io che mi guardo la gente che fa fare sedie partendo dal gioco di legna cioè in senso vedere il processo è sempre bello interessante anche perché è qualcosa che non ti appartiene ma che magari è alla base di cose che tu sei un solito usare quindi disegni sedie e quindi ti fermi lì e è bello poi se te lo fanno sul momento ancora è affascinante quello ha un valore e ci sta però nel senso non è che puoi star lì o fai tutto in diretta su Twitch così la gente viene a scuriosare che è anche lì però posso dire adesso apro chiudo una parentesi che io sono sempre stato dell'idea che quando tu lavori su cose che hanno l'NDA no ma nel 90% dei casi se tu facessi vedere il processo la gente sarebbe solo più gasata e sarebbe solo più come posso dire coinvolta anche dal risultato finale cioè adesso io parlo del discorso anche fumetto che quindi c'è più narrazione in mezzo ovvio che se io ti facessi ti spoilerassi la pagina del grande review del corpo di scena sei un coglione però la pagina è un po' più neutra se io te la faccio vedere man mano e tu sei lì mentre io la sto disegnando ti viene solo più voglia di prendere il fumetto quando esci quindi in generale secondo me c'è molta paura nel non voler far mai trappelare nulla quando dall'altra parte poi spendi in marketing perché vuoi che il tuo prodotto giri però secondo me ecco lì serve una roba più da tenere in considerazione questo è sempre secondo me così ma vedete qual è il problema è che lì ha lì ha e sta facendo veramente passi giganti ovunque 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 e perdere l'artigianato secondo me c'è un'intelligenza artificiale che ti fa da master col sintetizzatore vocale che è in inglese in inglese io parlo del mio cioè tu gli scrivi fammi la sessione su questo con questi png voglio con libertà ovviamente tutto play by by chat ma già c'è un'intelligenza artificiale che ti fa da master da master però vedi anche quello che dice Morgan è vero al momento non è contato creare le immagini che vuoi tu dialogando con l'IA perché spesso sono stupide io una volta ho provato va bene mi fai un personaggio con una lancia e mi faceva sto brobio addirittura c'è tu puoi indicargli una zona dell'immagine e cercare di ricreare solo quella non ce la faceva farmi una lancia capito però qual è è che così adesso tra un anno si avvisse già quel problema di averlo bypassato nel senso è che il problema che si sta nevolvendo con la velocità e ci stanno continuando a spendere e investire tanti di quei soldi che non abbiamo idea che è quello cioè non possiamo noi pensare che vabbè ma tanta l'intelligenza è limitata perché è limitata ora ma tra sei mesi tu non sai come sarà è un po' il discorso che non so il famoso batterio che si duplica ogni giorno e che deve riempire il lago quando è che sarà il 50% del lago riempito è il giorno prima il penultimo giorno quindi a un certo punto è un minimo e adesso e questo è ovviamente una visuale un po' catastrofica però il problema che ti sfuga di mano davvero è dietro l'angolo perché il momento in cui fa il passo nel momento in cui tu la metti dentro ad altri settori più importanti come medicina qualsiasi quindi c'è tante tante visioni fantascientifiche fatte bene poi si sono rivelate reali no e ci ne sono tante che prevedono uno sviluppo dell'intelligenza artificiale con dei risultati poco entusiasmanti che è un qualcosa cioè ha una sua logica estremamente comprensibile a ognuno di noi quindi siamo attenti secondo me come dicevo prima ridotta ai minimi termini sarà la questione voglio un prodotto di una certa qualità creato con poco fra virgolette che poi dietro c'è un mondo oppure voglio un prodotto ad hoc realizzato con un certo processo che richiede certe qualità quindi rimarranno le eccellenze visto che noi le eccellenze ce le abbiamo io con il vostro talk in particolare mi sono particolarmente divertito anzi quando ho pensato ai talk ho iniziato a condividere domande con Nino proprio partendo dal vostro perché è uno di quelli che mi mi suscitava più curiosità senza voler togliere niente agli altri ovviamente vi farò una domanda che in realtà ho già posto sotto diversi aspetti anche ad altri e io vi volevo chiedere vi volevo chiedere a Mario nel talk del primo tento fortiché gli avevo chiesto come si fa ad assumere una propria cifra stilistica ok cioè come trovo il mio stile come trovo la mia strada come mi rendo unico agli occhi di un potenziale cliente ma in generale come artista la domanda che vi faccio a questo punto è quali sono i tratti della personalità vostra caratteriali che definiscono la vostra cifra cioè perché il vostro stile è questo da che cosa deriva deriva da un gusto da che cosa ha influenzato che cosa vi ha portato a questo bello bello vado io vado io vai vai allora principalmente per quanto mi riguarda sono stata sempre influenzata da le opere classiche insomma dal rinascimento fino insomma ai pittori più moderni e quindi si vede tanto con la matrice un po' più pittorica predizione all'andante e poi tendo a essere tanto rigorosa io sul lavoro nella vita tendo ad essere abbastanza rigorosa e predenziosa e questa cosa viene la riflettono la riflettono anche un po' le le mie opere è una cosa sia positiva che negativa perché mi blocca un po' quella libertà quella sicurezza che vorrei avere no soprattutto quando lavoro per un committente importante lì arrivano mille complessi mille paranoie quindi ti bloccano un pochino quello slancio artistico è una cosa terribile però è un lato del mio carattere che ahimè sfocia anche nelle opere artistiche che realizzo chiaro chiaro molto interessante molto bello mi stai dicendo che soffri di ansia di prestazione Ivana quindi anche tu sei umana fra l'altro una delle domande che avevo preparato era come affronti le paure o le incertezze del tuo processo creativo c'è un lato di te che emerge particolarmente in quei momenti quindi proprio perfetto me l'hai bruciata grazie io sono io sapete tutti credo l'abbiate visto durante le registrazioni di Time for TK che io sudo sette camicie dall'ansia come la gestite se la gestite allora essendo che faccio il lavoro che amo riesco a gestirla insomma in maniera abbastanza tranquilla nel senso ho delle aspettative nei confronti dell'opera che voglio realizzare che è stata commissionata e comincio a lavorarci se vedo che non riesco che ci sono troppi troppi conflitti interiori la lascio stare la lascio decantare mi metto a fare altro ora questo non è sempre possibile perché ci sono le famose deadline da rispettare però lì insomma fai fai proprio uno sforzo e lì ecco si può incappare nel famoso burnout dove tutto quello che produci ti fa schifo e lì insomma comunque la roba la devi tirare fuori e capita che alla fine non sei soddisfatto la roba è vendibile per carità cioè non è che fai cose inguardabili però ecco ti brucia un po' quella passione quella voglia di fare le cose quindi ti dico se è un lavoro personale mi prendo il mio tempo e faccio andare però c'è una deadline da rispettare fai chiaramente mi è capitato di fare dei lavori che alla fine li ho guardati e non mi sono piaciuti di cui non ero soddisfatto qua no non sono così no 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 sto scherzando ovviamente Mario Mario vai e allora a parte quello che hai detto Ivana insomma apre una grossa finestra su un altro discorso però ci arriviamo e allora a tratti del mio carattere che emergo nelle opere non saprei nel senso che io a un certo punto quando comunque stavo facendo la scuola quindi stavo effettivamente cominciando a costruire più con delle basi più più solide il mio bagaglio i miei tool da disegnatore mi sono sempre diciamo diretto verso questo stile più cartoon questo stile più grottesco perché credo che alla fine voglia essere cioè disegnare qualcosa che diverta di più cioè il lo space marine è bello perché è grosso cioè se devo farti quello grosso e te lo faccio più grosso perché è anche una questione di probabilmente non lo so riuscire a descrivere enfatizzando le caratteristiche di quello che stai disegnando cioè se una scena è dinamica a me piace farla più dinamica quindi mi piace quella deformazione quasi manga che poi soprattutto a quegli anni diciamo anche il mercato italiano stava cominciando ad assorbire quel tipo di stile e quindi a me non sono mai interessati tanto un po' per mia anche capacità per il percorso che ho fatto però lo studio delle luci la texture che sono quella parte che si sono legate all'illustrazione più che al fumetto però in verità ci sono anche fumettisti che hanno più attenzione a queste cose qua il panneggio coerente il realismo a me hanno sempre trasmesso meno quanto invece più volevo dare l'impressione di come posso dire dinamismo di efficacia quindi rendere quello che disegnavo diciamo grottesco dove grottesco sta in significare esasperare le sue le sue peculiarità in questo senso siamo opposti sì quello che ha detto lui io all'opposto per esempio prendendo appunto ad esempio l'armatura dello space marine io apprezzo quegli artisti che la come dire la alleggeriscono la rendono anche un po' più funzionale no? perché alla fine il design è un design che arriva da un cavolo di pupazzetto degli anni 80 quindi dettato da esigenze proprio come dire fisiche i cosini in piombo non potevano fare dei cosini leggeri che si spezzano subito quindi apprezzo quando alcuni artisti tipo mi viene in mente Iglesias o Ayor Seed tutti gli artisti che hanno lavorato per GV alleggeriscono l'armatura e la rendono più funzionale più elegante anche più raffinata nel design vuoi mettere Calgar c'è una testa così due spalle i due i due power fist con forse anche per questo che mi piacciono le sororitas perché sono un pochino più più snelline cioè l'armatura è un po' più credibile mi ti dici Iglesias come si chiama di nome? Iglesias aspetta te lo dico subito ha fatto tipo i ritratti dei primarchi se non sbaglio che sono le robe più famose credo che abbia fatto sono Miguel Iglesias ok sono uno più bello dell'altro sono incredibili l'altro Igor Seed si tra l'altro Iglesias sta facendo uscire la roba ultimamente fuori di testa e lui è una che mi piace tantissimo ok ho capito bombissima assoluta snellisce tantissimo bomba bomba un altro è anche Igor Seed che aggiunge quella componente vittorica cioè sembrano proprio diventi classici mi piace tantissimo l'approccio che utilizza completamente e pensate pensate che una volta io e Mario abbiamo unito le forze per lavorare su un manuale il manuale di navigavia lui ha fatto la matita di una nave famosissima nave e io ho dovuto dipingerla allora voi immaginate le forme molto cartonesche di Mario e immaginate invece il mio approccio più pittorico insomma un certo tipo di render di mood ecco io non lo so insultato Mario maledetto voi immaginate questi due che lavorano insieme cioè immaginate queste cose completamente opposte che sono costrette a unirsi no? no no artisticamente Mario non possiamo unirci questo mi porta anche alla seconda cosa che volevo dire ovvero che anche qui prendevo spunto e quello che c'è di Ivana perché io faccio il contrario e una delle info dall'altra parte una cosa che posso dire è essere un lato negativo o positivo a seconda delle occasioni che mi caratterizza quando il lavoro credo che sia un po' il discorso della velocità cioè maledetto siamo accorti eh miseria ma che che non è per forza una questione sempre una questione positiva perché come Ivana mi può confermare tu potresti lavorare su un un tuo disegno un anno e continuare a migliorare limare quindi dov'è che a un certo punto metti la tua stanghetta per cui adesso basta al di là che ci sono stili più che altri che possono giovare di questo continuo perfezionamento del dettaglio quindi se tu stai renderizzando gli oggetti le luci contro luci sicuramente essendo comunque una lavorazione più lunga ci puoi quantonare a lavorare super di più uno stile più più sintetico a un certo punto comunque arrivi a finire insomma le cose che ha senso aggiungere però un po' forse anche vittima della mia ansia dal dover fare cose chiudere il pezzo dopo che di nuovo a volte è una cosa positiva a volte no però io sono sempre stato molto rapido abbiamo visto Mario è un po' un circolo no ma è verità lo dico perché però a volte mi rendo conto che se ci facevi un passaggio di grigi in più se guardavi un po' meglio luci contro luci poteva poi apriamo chiudiamo una piccola parentesi il lettore medio di queste menate non se ne accorgerà mai e quindi è anche quello un po' alla fine il grande come posso dire il grande vabbè che ti fa andare avanti non è sempre vero ma io parlo dopo 15 anni di fumetti adesso posso dire di averci iniziato a capire qualcosa ma ci sta ma poi soprattutto sul fumetto il fumetto è un medium che mette di solito parliamo del prodotto commerciale però mette davanti la storia il dialogo sebbene poi spesso io sfoglio un fumetto guardo i disegni e non leggo la storia però ci sono anche ovviamente casi in cui il lato artistico del fumetto è strepitoso ovviamente però come come idea secondo me quella del lettore medio è quella di leggersi la storia tant'è che quanto tempo ci passi su una pagina però ad esempio le immagini di Ivana mi mi trasmettono una storia capisci senza neanche bisogno di un di un eh vabbè ma ragazzi stiamo parlando di una narrazione diversa ma sì ma cavoli ovviamente il fumetto per narrare ha bisogno magari di una pagina non solo di una vignetta tu in illustrazione racconti di più di una vignetta è quella la differenza sono proprio esigenze diverse e anche contenitori diversi cioè ti penso in una copertina quanto devi raccontare secondo me gli step lo step che ho fatto io è stato leggevo fumetti non capivo un cazzo di disegno ho imparato ad apprezzare i disegni di un fumetto andando oltre leggendone tanto e poi mi sono spostato sulle illustrazioni solo alla fine ho iniziato a dire io voglio solo le illustrazioni basta cioè voglio quell'emozione che mi dà che mi dà però poi c'è ad esempio Miura che in una vignetta mi faceva l'illustrazione ci sono anche quelle ma tu pensavi che mi dava il mostro pensa a Alex Ross cioè dai prendi sedizione cicciona dai no ovviamente ci sono tutte le eccezioni stiamo parlando stavate parlando di lui stavate parlando proprio di lui ah stavate parlando di lui sì 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 ma però ti dirò al di là del valore artistico intrinseco è molto più facile che io apprezzi un disegno più semplice e cartunesco su un fumetto piuttosto che uno stile iperrealistico poi nel senso si va anche nel gusto personale a me che piace usare quello stile trovo più interessante vedere cose con lo stile ma sì che cazzo vuoi dire cioè chi mai criticherebbe una roba del genere ovviamente sai che Mario tu hai detto una cosa prima che ha diciamo dato voce ad una mia fisima cioè che io quando leggo i manga mi incazzo con me stesso perché li leggo troppo velocemente mi dà fastidio perché mi sembra di rispettare poco l'impegno dell'illustratore perché sei un lettore di terzo ordine questa la verità non ho mai l'antaso di essere un grande lettore o un intenditore di illustrazioni non a caso sono qua a chiedere lumi però è un po' come giocare a Elden Ring cioè tu lo puoi giocare menando andando avanti ti sei divertito puoi andare con un binocolino a guardare il capitello e cercare di capire qualcosa della lore quindi c'è non c'è un modo sbagliato però però diciamo che secondo me la parte ripeto più importante solitamente nel fumetto è la storia però ripeto mi sembra di mancare di rispetto a chi l'ha pensato non lo so è questa la sensazione che ho riflettendoci ora a caldo poi magari no 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 ma c'è un lavoro diverso insomma al momento hai dato voce con quell'osservazione a una sensazione che ora ho messo a parole pensi alla giornata che quel povero fumettista ha passato su una vignetta e ti senti in colpa nel gilarlo malamente così cosa ti ho regalato adesso dai dai il tuo momento Federico cosa ti ho regalato per il compleanno quest'anno mi hai regalato no Giorgio era l'anno scorso quest'anno mi hai regalato era un fumetto anche quello era un fumetto ragazzi ha detto un fumetto un fumetto va bene andiamo avanti ora sono un film preso da uno time to 40k due cercare di fare video su samuel ha detto un fumetto ha detto veramente cos'è uno scaldabagno ma ma io sarei curioso di capire è una domanda che abbiamo già fatto anche altri ragazzi l'abbiamo fatta se non sbaglio nel talk con Paride e Matt c'è uno stato emotivo nel quale vi piace disegnare o che ricercate quando illustrate se sì come lo ottenete bella in realtà dipende da quello che che devo fare però ti dico se devo fare qualcosa di personale mi piace essere triste cioè se io sono triste non sono solo non sono solo non lo so non lo so io come cioè disegno per me quando sono triste infatti non lo so il dolore è il dolore che ti rende artista eh vabbè la fine è un'emozione fortissima che viene canalizzata dentro l'arte più l'emozione è forte più ragazzi mentre mastero io penso alle cose che più mi hanno fatto soffrire sulla faccia della terra non sono la sola ma benissimo ragazzi io mentre masteravo time to forti che dentro di me c'era l'inferno no però sì però questo quando faccio roba per me ecco se devo fare proprio roba di lavoro commissionata voglio stare tranquilla leggera anzi mi metto su discord a chiacchierare con colleghi amici e si va con matti quando devi tirare fuori l'arte serve la depressione quella forte angelo eh questo riporta un po' l'altro punto che mi alleggiava nella mente è capire quanto c'è di artistico nel lavoro minchia porca miseria noi possiamo fanno tutto loro ma è bello che si ricollega a quello che vi ho detto prima cioè nel momento in cui tu o meglio io do al processo creativo una finalità molto nell'immediato nella produttività sia che soprattutto quando è su commissione e soprattutto se la commissione di base ha un valore comunicativo passo aglias i fumetti di spiderman che li fa disegnare per i bambini di sette anni sono delle cagate dieci pagine che si fanno e ti dimentichi ma perché è quello il loro scopo il secondo dopo che le finite di disegnare no perché perché si serve quello quando fai i coloring book di spiderman per i bambini di 4 anni che cazzo te ne frega stacchi il cervello fai e via andare no ok però in generale anche quando sei quando io sono su c'ho più più tempo posso dedicarmi a qualcosa di mio in cui vado anche da divertire non lo so io credo sempre di probabilmente affrontare la creatività con molta leggerezza no e quindi non posso dire cioè non mi sento di metterci del dolore o quel pezzo di anima che secondo me dà più valore a un prodotto artistico non lo so è una strana sensazione però io spesso quando mi mi dicono che sono un artista io dico insomma non lo so sono più un artigiano poi in questo preciso momento dove io ho mi sono dedicato parecchio alla scrittura di un progetto vabbè famoso coda banana dove però non vuole essere nulla di particolarmente profondo come discorso come concetti quindi anche lì è una cosa fatta un prodotto di intrattenimento no quello che potrebbe essere un Indiana Jones no però comunque quando tu vai approcciare un processo a parte che è stato più lungo perché è ancora in atto come scrittura però la scrittura del personaggio dove tu pensi più alle psicologie alle dinamiche per quanto se vuoi blande però probabilmente ti si apre un po' di più una porta su diciamo sul tuo interiore io non mi sento di aver messo chissà che in questo in questo progetto se non forse quelle due concept che mi hanno fatto iniziare la storia che è la storia che diciamo è una storia di un ragazzino a cui capitano comunque la sua storia è deriva da quello che è fatto dai genitori e dal nonno ed è un concetto che è venuto in mente adesso che hai una figlia cioè quello che che il tuo momento forse a un certo punto finisce e tu lasci il tuo bagaglio in mano a qualcun altro e lo svilupperà lui e quindi questo concetto di passare l'eredità quello che si è fatto no? sì l'eredità e quindi questa è una delle mie idee e l'altra che questa perché è un'altra mia è un discorso più legato al discorso ambientale ma è più diciamo molto molto banale come riflessione però secondo me ogni volta che la facciamo una volta in più non è mai sbagliato e quindi c'è questo discorso qua però faccio fatica che io considerarmi un artista però è una figata perché tu l'hai resa disciplina porca miseria sì è una cosa che è una cosa difficilissima ok tu l'hai tu l'hai resa disciplina è proprio forse sei l'esempio perfetto io la mia non è disciplina la tua sì cioè se io sto di merda io mastero di merda il 90% delle volte no anche se poi devo andare a prendere una cosa una cosa così tu tu invece ti metti lì e l'hai fatto diventare proprio la disciplina vera e propria cioè considera anche che che il masterare è un rapporto e quindi già questo ti smuove molto di più quella è la mia arte di quello posso parlare no certo però considera che disegnare sei tu nella tua cameretta con la tua tavola grafica con la serie che va è un concetto molto più ovattato capito e quindi tende anche almeno per come la percepisco io a lasciarti molto più un po' nella tua bolla e potenzialmente lavori così invece qualsiasi interazione diretta con le persone già ti porta a a elaborare di più a muovere più il cervello Ivana vuoi dire qualcosa vuoi no 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 rispetto a quello che ha detto Mario nulla da aggiungere però nel senso capisco perfettamente il suo punto di vista e spesso mi sento anch'io così no più artigiano meno artista quel famoso discorso però ecco per me lasciare intrappolata quella pulsione emotiva la la catarsi è brutto cioè per me è proprio la morte del lavoro e mi auguro che non succeda mai perché se no diventa un lavoro come gli altri quindi tu mi stai dicendo che anche quando fai una commissione in quel momento c'hai comunque quel la catarsi appunto sì no dipende dipende dalla commissione quali commissioni non ti fanno andare la catarsi si può dire sto scherzando allora la maggior parte sono dei privati devo dire ma magari di quelle persone che hanno più pretese nomi facciamo nomi nomi non è nella vita soprattutto da gente che si improvvisa al director e che quindi no detta bello no ma senti ma la composizione se la cambiamo sei zitto la risposta è questa la risposta è questa è arrivata una ghigliottina ivanica la risposta è non posso mai dire i nomi la risposta no no smetto di dire è una roba di una mancanza ma no ma si sta scherzando è una bifida a chiederglielo si sta scherzando ragazzi se uno fa un pesto una merda all'inizio del podcast deve continuare a pestare una merda per tutti i podcast in modo da non da obbligarlo me a rimediare da dissimulare completamente l'abbiamo già detto e ragazzi bisogna esorcizzarle così le cose non è che si può in un altro modo Ivana non ci parlerà mai più andiamo avanti giocati dai parliamo di giochi di ruolo parliamo di giochi di ruolo minchia capito che non ti senti artistico no in verità ci arrivo così ti faccio questo lancio io mi sono reso conto che la parte di me forse più artistica è proprio quella del raccontare le cose più che disegnarle certo ed è il mio modo più efficace per farlo ma è raccontare storie io mi ricordo ancora quando nel lontano 2001 io ho scoperto D&D io vado a avere 30 anni ok esatto io sono arrivato a casa dopo quel pomeriggio dicendo cazzo ho finalmente trovato quel qualcosa che mi permette di sfogarmi creativamente perché è il tuo modo per raccontare le tue storie le tue cazzate condividerle costruirle non lasciarle così come delle idee che volano nell'aria ma qualcosa che settimana dopo settimana inizia uno sviluppo e una fine e quindi scusa vogliamo ricordare semplicemente che Maid il nostro moderatore nel 2001 è nato io avevo tre anni solo per fare questa postilla poi andare avanti prego e quindi secondo me il giocare di ruolo dal punto di vista artistico è tanto utile e poi soprattutto masterare perché ti costringe all'elasticità mentale incredibile è un allenamento se uno è interessato anche al discorso narrativo è eccezionale il storytelling è eccezionale io mi ricordo che quando io adesso è un po' parecchio purtroppo che non mastero ma le volte che tornavo io ho sempre giocato negli ultimi anni con dei miei amici a Reggio Reggio Moda era una mezz'oretta di macchina quindi si staccava di là l'una e mezza tra una cosa e quella altra arrivava a casa che erano le due tu dirai sei anche stanco io per almeno mezz'ora avevo il cervello che non si spegneva continuava ad andare ed era proprio quello succedeva quando avevo masterato una sera perché ti mette molto veramente le psinapsi in una maniera che è incredibile l'abbiamo visto con l'ombra con te Mario ma l'ombra è niente l'ombra è niente perché comunque era un giocatore beh però tu eri forse quello che ne continuava a parlare di più intanto spieghiamo a cosa ci riferiamo ci riferiamo a una campagna che abbiamo portato masterato da Nino io giocato da me da Mario da Delmo da Fabiano e da Gianandrea la trovate sul canale del Delmo bellissimo prodotto andate a vederlo è veramente una bellissima storia però per esempio io lì cosa che ho sempre ripetuto a voi io avevo quelle vibes durante quella quella giocata come le avevo quando ho giocato la mia prima campagnona a 16 anni sono quelle cose che ti rimangono dentro finisce la campagna finisce la sessione ci stai ancora pensando la mattina dopo ti viene voglia di farci il disegno che è una roba che poi mi è successa più raramente ma per mille motivi quella lì è stata un allineamento di astri molto favorevole tra la storia il mio personaggio la mia situazione la situazione di tutto il gruppo che ha sviluppato cose quindi cioè bene può anche non succedere ed è bello così però in questo caso soprattutto quando è qualcosa che ti entra dentro e ti dà proprio l'impulso a raccontare altre cose cioè nel senso a parte come si diceva che quelle scene noi ce le vedevamo tutte nella testa credo quindi avevano comunque una capacità narrativa narrativa cioè non lo so è che io puoi parlare avendola giocata ho sempre paura che il mio il mio giudizio sia filtrato però io veramente quando facevo le paginine disegnate così ma me le ero viste davvero quindi ed era quasi quello che era catartico perché putavo giù evidentemente condividevo qualcosa che era piantato nella mia testa capito quindi emozionare Mario non è facile e sapere di averlo fatto io veramente mi fa l'averlo fatto io tra molte virgolette ovviamente io inteso come master della situazione mi fa dire ma va magari mezza cosa buona l'hai fatta dai non sei stato così schifoso anche in questo in questo in questo ambito comunque mi ritrovo anch'io tantissimo in questo discorso voi non sapete quante volte durante le sessioni che abbiamo registrato mi dì a voglia di mettermi lì cioè subito dopo aver finito la sessione mettermi lì a disegnare qualche scena e lo stavo per fare c'ero vicina solo che poi arrivava la la ghigliottina della della deadline però chissà il problema è quello capito perché io avevo un'illustrazione in testa con tutti i personaggi quindi pensa tu sì ma beh c'è no però non dirmelo lo sai che io sarei dovuto morire la prima soffrire di questa cosa però dovrei tagliare un paio di giornate lavorative per fare questa cosa è è un po' complesso voi non avete idea la vuoi pagalani la paga time to dice dai pubblico colletto la paga la paga time to dice ma in questo momento manco la potrei fare che sono con la fine Ivano però ti faccio io questa domanda ma Mario stasera ha detto vabbè va a farmi pure vai perché perché in verità parlare con Ivano esatto parlare con qualcuno che ha l'approccio opposto al mio quindi per me è interessante però ritagliarti un giorno una settimana dove fai la roba per i cazzi tuoi sarebbe una buona idea ma in realtà lo faccio già cioè banalmente anche oggi poi è andata via la corrente infatti non so se sentite i lavori che ci sono qua sotto cioè ci sentono tra vabbè scusate nel caso ora chiudo la finestra banalmente oggi ci siamo messi a fare quegli studi ma anche quando ho fatto l'illustrazione quella della matriarca cioè quella l'ho fatta per me perché me la sentivo in quel periodo ho fatto l'illustrazione per me bomba solita quindi queste cose le faccio raramente perché in questo periodo insomma ci sono stati un po' di casini c'è tanto lavoro e quindi ritagliarsi è complicato però mi impegno a farlo e quando lo faccio sono contentissimo cioè ora vorrei mettermi a fare le altre cinque matriarche però il mondo che sarebbe solo arricchito di una cosa del genere io l'ho detto quindi prego è il momento guarda secondo me uno si può consolare anche solo pensando che alla fine quello lì è materiale che tu puoi pammare liberamente appena finito sui social qualcosa di tuo di recente che puoi usare quindi di solito quando facevo cose di questo tipo mi davo un po' questa giustificazione scusate morirò di caldo però c'è un po' no vabbè nelle dieci e mezza di sera vabbè devo stessa aver droppare un'illustrazione inedita ragazzi ho fatto questo e usciva un cartellone eh magari no mi era d'aspettativa siamo rimasti tutti così mi dispiace mi dispiace prossima volta mi provaro qualcosa no però davvero qualche disegno a tema la campagna che abbiamo fatto prima o poi lo devo tirare fuori perché a parte che mi è messo un bel ricordo e vorrei fissare questo ricordo in un'illustrazione perché non lo so è come una fotografia fissi quella cosa e ce l'hai per sempre anche perché poi qualche dettaglio magari te lo dimentichi della giocata di illustrazione fa ti ricordo di quella cosa perché ce n'hai di roba ma sono ricaricate su Sam Melo Ultramar canale YouTube quindi se anche voi volete capire di cosa si sta parlando andate a rivederle tra l'altro Ivana gioca domani con Federico ma il gruppo caotici le persone del gruppo caotici mi sono veramente rimaste quelle serate mi si è dissipata l'ansia ed è diventato un piacere è stato bellissimo ho dimenticato effettivamente che eravamo lì per registrare delle sessioni ho giocato e basta bellissimo ma si è visto ragazzi abbiamo trovato subito sinergia tutti quanti dalla prima sessione no ma non si spiega quello è stato un miracolo vero li ricordiamo che giovedì stavo per dire ieri giovedì è andata live la prima sessione del gruppo lealisti dove c'era anche il mariolo e la provate già ricaricata martedì andrà cioè domani sera andrà in onda alle ore 21 la prima sessione del gruppo caotici e poi sarà ricaricata mercoledì sul canale e sarà disponibile qualora voi bestie non la seguiste in live ma visto che bestie non siete la seguirete ne sono certa io ho una domanda sempre perivana scusami un attimo a proposito appunto di questa cosa che io ci ho ripensato dopo ci ho ripensato dopo che abbiamo fatto queste cinque sessioni insieme cinque sessioni è stato quanto un mese e una settimana sì questo super giusto te lo sei chiesto il perché ci siamo arrivati eravamo cinque sconosciuti gente che non si era mai parlata se non noi con Stefano e una volta con Paride e con te ci eravamo visti quei cinque minuti e abbiamo tirato fuori sto delirio fuori di testa io ho detto ma come perché perché la mia risposta è stata un immenso boh dovevamo essere lì è basta chi sta la galassia aveva deciso che in quel momento doveva nascere sta cosa sincronicità vatti a leggere la definizione di sincronicità mi insegni sempre qualcosa vostra malvagità lei mi insegna sempre qualcosa andrò a cercarmi la sincronicità e voi live di vampiri perché io per lo più ho fatto quello ma live di larp ne avete fatti no ho mai fatto l'arp in vita mia ma perché io ho un grosso problema ad esempio mi piace utilizzare la mia voce per quanto detesti la mia voce sono totalmente incapace di muovermi in ambito sportivo no dove mi metti vado vado bene mi levi fuori dal contesto sportivo sembro una scimmio bonobo te lo giuro proprio non non so capace non mi chiedere di ballare non me lo chiedere no vabbè tutt'astante non mi chiedere di recitare con il corpo no no ok no perché è un po' il discorso che sta facendo Nino cioè come degli sconosciuti messi in situazione del genere possono funzionare o comunque possono interagire no adesso più o meno bene però e nell'ARP questa cosa è all'ennesima potenza perché non stai solo parlando in qualche modo stai anche recitando poi lungi da me dire che essere un LARP tu debba essere chissà che a torone cioè fondamentalmente sei visto un coglione però è cascata un'altra ghigliottina un po' meno allora io mi ricordo le facce di quelle che passavano magari quella sera nel parco vicino sotto la rocca dove giocavamo e ci vedevano i venti stronzi quello col mantello quello con la maschera veneziana quello col cappottone che se ci sembrava Matrix quello con la spalla dei lattici e te è ovvio che TSO 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 è pittoresco ogni tanto passavano anche i carabinieri poi tu avevi tutti i permessi per cui però è ovvio però quello che dico è che giocare di ruolo e tanto più giocare live ti mette comunque davanti a una certa soglia da superare dal punto di vista così di rapporti e tutto sommato io che non sono assolutamente una persona estroversa e che non sono sono un po' migliorato ma comunque sono una persona timida fondamentalmente pensare che io andavo visto come un coglione in mezzo a 40 all'epoca 40-50 persone dove magari ne conoscevo 5 e si giocava cioè è una roba abbastanza assurda quindi il gioco di ruolo effettivamente è interessante a questo punto di vista di come riesca a un po' da una parte rimescolare le carte in tavola cioè quindi anche forzarti in situazioni che non sono tue e come cioè riesca anche a come posso dire beh sì creare queste situazioni e a volte ti trovi magari con una persona se fossi fuori a cena non la conosci e ci stai mangiando una pizza perché è una tavolata ci pari due volte se sei con quella persona e stai giocando ovviamente la situazione ti aiuta perché sei lì comunque con un certo tipo di mentalità però c'è proprio un superpoter che ha il gioco di ruolo lo vedrete domani sera io non ho altro da dire quando abbiamo iniziato quella registrazione i cinque che erano seduti intorno al tavolo si conoscevano da venticinque minuti sì comunque io capisco quello che dice Mario sull'ARP non l'ho mai sperimentato e non l'ho mai sperimentato e credo anche quanto ti senti fuori luogo probabilmente dipende anche da quanto ti interessa del giudizio delle persone cioè quanto tanto o poco riesci a fregartene o dello stigma legato a un qualcosa ad esempio io all'inizio ho avuto molte difficoltà ad approcciarmi al gioco di ruolo cioè io quando ho giocato le prime volte io sudavo dall'ansia proprio mi sentivo completamente folle poi piano piano ho normalizzato l'italiano cioè cosa? giocavi con Matthew Mercer italiano e meridionale quindi dai ci stava però un po' d'ansia io mi ricordo le prime volte che il tuo personaggio quando arriva all'idea di vampiri cioè deve presentarsi al principale cioè la prima cosa che tu fai quando comincia la sessione tu sei nuovo arrivato devi andare davanti come uno stronzo e dire il nome del tuo personaggio cioè lì l'ansia oddio ma come mi chiamo oddio ma che cazzo di per questa cosa cosa devo fare perché ci sarebbe tutta un'etichetta poi vabbè ovviamente stiamo giocando però a cazzo no mi devo inginocchiare o mi inginocchi oddio tutti mi guardano ansia manetta beh anche tu Mario sei io le capisco perché non dico che siamo simili forse però per alcune cose si siamo entrambi persone molto razionali molto analitiche quindi io capisco tutti questi patemi li vivo nel mio quotidiano quindi li comprendo sì sì beh vabbè io cioè per dire che poi io ho le mie problematiche interrelazionali io faccio una fatica bestia a prenotare il telefono tipo in pizzeria poi lo faccio beh poi sei nato anche il meme però tipo quando sei da prenotare perché si va in pizzeria se posso sbologno sempre la cosa a qualcun altro ma non è vero Mario a Modena abbiamo mangiato solamente perché c'eri tu che telefonavi perché non potevo dire Lino chiama tu cioè sarebbe stato ridicolo puoi affidare a Nino il compito di chiamare qualcuno a parte Nino nello specifico ma in generale scusi quando sa me lo vuol stramar che danni ho mai fatto una volta che mi ero dovuto di badare dei numeri inizio finisco domani mi basta ricordarti come hai esordito in questa live mi basta ricordarti quello esatto quindi quando posso ho un microfono fatemi droppare un microfono eccolo quando posso cerco di passare questa cosa qua però quando siamo tra amici quindi questa cosa ormai è già già risaputa no no prenotate voi io non chiamo ma Mario cioè è una contraddizione questa cosa perché a Modena hai fatto da papà a una mandria di 20 bambini allora c'è da dire che a Modena la cena dopo un po' io e la tizia del locale eravamo di tanti amici poi lei era anche una molto molto acconiscendente quindi ma lì non lo so da dove nasca qui sarebbe bisogno dello psicologo però questa è il rompere il ghiaccio perché una volta che dopo appunto capisci che di lì c'è il tipo che gli stai facendo fondamentalmente un piacere perché gli stai dando dei soldi però subito mi mette questo tipo parlare al telefono e stare tranquillo seduto impossibile vero si parla al telefono dopo un secondo sono in piedi che faccio il giro della casa in tre mattonelle in tre mattonelle rigorosamente allora guardate quello non ce l'ho guardate il reel che abbiamo fatto io e Federico a Modena a Modena che era uno dei primi reel per sponsorizzare Time for TK 2 se voi vi accorgete c'era Mario che parlava al telefono e girava in quel momento sì sì ma lì anche se devo parlare con te hai capito però impossibile stare fermi se va bene giusto quando sei su Discord perché sei bloccato qui al microfono se no sarei in giro anche adesso sì no infatti ora io pure sono a grattarmi qua i buboni dal G a fare cose comunque comunque Mario tocca a Bruna dare le scende per Luca a proposito cazzo fate voi no no ormai questa cosa questa cosa è stata palesata non ho più paura eh no ho pronotto un amico ragazzi una una domanda marzulliana perché tanto e l'ho già detto nell'ultima live quando l'ora si fa tarda i marzullo sbucano dalle tenebre e in questo caso io sono il vostro marzullo non sono certo noto per la mia simpatia sono noto per i miei rompimenti di coglioni e quindi giungo a voi a romperli con mestizia allora io ho un concetto che mi è molto caro o molto odiato nella vita non lo so probabilmente più odiato è il concetto del tempo come questo fattore ha influito sulla vostra arte o sul vostro artigianato Mario e su di voi come persone mamma mia e quanto le cose sono legate piuttosto e ho un pessimo rapporto con il concetto del tempo perché quando ho cominciato quando ho cominciato con questo lavoro ecco non c'avevo vent'anni quindi mi sono ritrovata a venticinque anni a fine accademia insomma fine lauree e cose che ero praticamente in mezzo a una strada non sapevo che direzione prendere perché l'ambito artistico vabbè si sa non è il campo lavorativo dei sogni o che ti dà sicurezza eccetera quindi hai venticinque anni ti piace l'illustrazione vuoi fare questa cosa però parti insomma non da zero però devi imparare questo mestiere quindi mi sentivo in difetto perché già a quell'età dovevo quanto riguarda avere già delle skill e niente questa cosa mi è pesata mi pesa tuttora cioè io quando vedo un artista devo sapere quanti anni ha perché devo sapere quanto sono in difetto rispetto a a quell'artista e quindi adesso diciamo ho imparato un pochino a gestire questa cosa a viverla in maniera un pochino più sana però all'inizio era era tanto tanto pressante come come cosa e non non è stato facile conviverci però insomma passa il tempo si matura affronti le cose in maniera diversa e poi in senso più più pratico il tempo per me è sempre poco ovviamente perché vorrei la famosa giornata di 48 ore dove ti fai il tuo lavoro e poi fai il tuo fai le tue opere e diventa sempre più più difficile anche perché poi vorresti anche dormire avere relazioni sociali andare in palestra ecco però insomma qualcosa bisogna sacrificare però lo sto sacrificando l'uscire fuori di casa poi poi vediamo più avanti mettiamo sulla io sappiamo che vorresti giocare a warhammer per ivana mamma mia una partita l'ho fatta è finita malissimo ma proprio nel modo peggiore che si possa immaginare però dai l'ho fatta no 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 si è finita malissimo tipo con miniature spaccate partita per ma cosa stai dicendo che cosa è successo ciò stai ciò stai chiudiamo questo parentesi dolorosissimo va bene si si sai quando cominci il gioco e ti si spacca una miniatura a terra perché ti cade brutto brutto veramente oppure quando qualcuno si siede sopra no ancora peggio come è possibile come può succedere una cosa del genere eh lo so lo so non è colpa è dolo quello è colpa tua che l'hai messa su una sedia non l'ho messa io sulla sedia non l'ho messa ah ok non l'ho messa non l'ho messa eh succede succede però siamo persone mature e prendiamo la cosa tanto hai pianto tantissimo anch'io tantissimo infatti ho detto vabbè continuiamo sta partita però basta non c'ho più voglia perché le mie migliori sono distrutte intaccate per sempre l'altra volta a Beggio mi sono giocato a Kill Team e mi sa che è il momento che anch'io cado in questa cosa ahia ho preso la scala stefano mi ha fatto un commento che non ripeterò qui dai dimmelo dimmelo no no non lo ripeterò qui te lo dico dopo no 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 devi dirlo tu ci tieni il tuo canale addirittura allora lo dirimo dopo ecco presente quello che non potevi dire durante il talk ok ci stavo ok comunque vabbè io sono assolutamente d'accordo con Ivana il tempo è la ghigliottina che pende su di te e lo vivo male soprattutto perché e rientra il discorso di prima cioè nell'ansia di finire cose fare perché da una parte è un lavoro che non ti dà stabilità e quindi si è sempre lì e dire ok adesso faccio questa cosa ma dopo cosa faccio boh e quindi si è sempre lì adesso la devo finire in fretta perché poi così dopo faccio scrivo sento e quindi lì è ansia ma in generale ancora di più perché io soprattutto per quello che se io adesso mi hai presentato dicendo sì questo qua ha lavorato con GV con Marvel con D ok però se devo dire che io sono orgoglioso dal punto di vista creativo di quello che ho fatto finora faccio molta fatica a trovare qualcosa che mi dia un un orgoglio no sì vabbè Mario puoi anche andare a fare in culo però veramente in modo proprio di decolgere nel senso no capisco sarei curioso di capire era una delle domande questa quindi ok per cui quello che a me più di tutto mette ansia riguardo questa cosa qui è lascerò in erità a proposito di prima qualcosa di valido ma va a cagare riuscirò riuscirò a produrre un qualcosa che narrativamente funzioni sia apprezzato è una delle tematiche che contraddistinguono la mia esistenza ok però secondo me la risposta di Nino per quanto semplice non è banale sì è vero in quella piccola cosa che hai fatto no certo ma adesso è chiaro che ognuno di noi ha un valore che trasmette a chi ha vicino quindi io parlo più in un'ottica in questo caso più artistica in questo caso un po' questo questo espluano quindi io riuscirò effettivamente a raccontare una storia che piace a qualcuno interessa a qualcuno e verrà ricordata dopo di me ma il problema è che voi lo fate già con le vostre con la vostra illustrazia già le allora già le vostre pagine instagram sono un racconto di storie e lo fate in un modo che è una narrazione tra l'altro è una narrazione indiretta perché un'immagine è una narrazione indiretta racconta una storia non in modo diretto come può essere un audio come può essere un film un'immagine è bassa è una narrazione molto indiretta cioè devi avere una sovralettura devi fare una sovralettura non è didascalica per farvi capire quindi voi già raccontate ed è per questo che è una cosa diversa da quello che faccio io io sono molto didascalico per essere un master tu devi essere didascalico fortemente perché io quando vedo i vostri disegni mi flippa il cervello perché voi riuscite a raccontarmi qualcosa senza essere didascalici quindi già voi le raccontate le storie io per raccontare una mia storia vi devo mettere lì vi devo spiegarvi che c'è un albero devo spiegarvi che c'è la brezza e devo farvi sentire l'odore ma questa è un problema per come la fruttitura è un discorso meccanico cioè raccontare cose noi lo facciamo in maniera anche più subliminale e più con le immagini tu sei costretto a raccontare è ovvio che racconti qualcosa nel momento che disegni no? ma il mio discorso è diverso il mio discorso è diverso e come mia soddisfazione personale e quindi nella ricerca di questa soddisfazione mi deriva l'ansia da non riuscirci è riuscirò a fare un prodotto che piace davvero che avrà un pubblico dei fan cioè è lì ed è una roba ripeto molto egoistica è una molla che muove me cioè non deve essere una roba di alti sistemi però per esempio faccio un esempio Luxastra tu ti inventa la tua ambientazione come si sono inventati altri mille master però la tua ci ha fatto tutto e la gente la conosce ci ha scritto la wiki la gente ci fa i cosplay è lì c'è la soddisfazione di essere sicuro perché ne hai la prova tangente tangibile tangibile infatti stavo dicendo che il tuo immaginario è penetrato nell'immaginario altrui e che non ce ne rendiamo conto il problema è che siamo offuscati dalla continua ricerca dalla continua perfezione dal dall'inseguire l'opera d'arte massima che insomma sarà l'opera d'arte della nostra vita e fine ma questa cosa non esiste intanto perché anche banalmente un un Leonardo non sapeva dipingendo che ne so la Mona Lisa stava facendo un capolavoro ricordato nei secoli dei secoli stava facendo un ritrattino di merda poi è stato famoso per motivi anche stupidi in realtà però in quel momento lui non stava facendo l'opera massima della sua vita stava facendo ricerca e lui ha continuato così per tutta la vita come lui tutti gli artisti anche noi siamo offuscati da questa cosa quindi questa insoddisfazione ci porta a pensare che non lo so magari nessuno è colpito o attratto dalla nostra opera in maniera così coinvolgente che poi c'è nel caso mi permetto di dire vostro maestà cioè raga siete di altissimo livello entrambi cioè in modi tremendamente diversi ma siete entrambi di altissimo livello mostruosamente di altissimo livello ed è incredibile come c'è questa cosa da voi non traspaia cioè come se non ne fossero consapevoli esatto no sai cosa è che quando ci sei dentro un po' come dire in qualsiasi ambito tecnico quando ci sei dentro intanto percepisci di più i limiti e poi hai un panorama una panoramica molto più precisa chi altro c'è di dentro ok ok e quelli che magari chi in aspetto chi come posso dire non non immeritatamente ma comunque anche allo stesso livello per questioni di cura o cose ha più visibilità più successo e quindi tu sai che ah va bene voi mi dite che sono bravo a disegnare sì lo so che non sono una capra lo faccio di mestiere e quindi quando io faccio un disegnino lo faccio di mestiere ma come fai magia no non è magia è una roba molto semplice tu chiedi al fornale io non sono capace di fare una pizza tu chiedi al pizzaiotto lo fai in due minuti ed è buona e io dico è magia quindi lo capisco da un certo punto di vista ma dall'altro vivendola dico no non è magia semplicemente sono anche migliaia di ore di esperienza e soprattutto quando si mi dicono ah sei bravo sei bravo sì ok però vai a vedere quelli bravi davvero e qua la gente dice ah ma che cazzo ma che cazzo dici ma tu non lo so ma sei bravo sì va bene io sono bravo ma non sono il più bravo guarda anzi ma proprio no siamo neanche a metà della scala e questo è il tuo punto siamo tutti ossessionati da questo fatto che pensiamo che il trono è di uno solo cosa che pensiamo no ma non è di uno solo però di altri capito cioè tu scalui la vetta e una volta che raggiungi una montagnetta vedi l'altra più alta e si ripete questa cosa quindi mi state dicendo che non saremmo mai soddisfatti tutti quanti tutti quattro quando siamo qua perfetto allora ci sono quelli che si fermano e sono soddisfatti però e magari lì la crescita è un po' bloccata secondo me no secondo me la mia soddisfazione sarebbe poi per come la vedo adesso di nuovo magari una volta arrivato lì comunque però nei momenti in cui hai quella autorevolezza che è un mix di capacità pratica di affidabilità come figura anche professionale come comunque pedigree generale per cui tu proponi un qualcosa e il publisher te lo accetta senza stare a penare quello per me è come posso dire l'incororazione del livello massimo raggiunto cioè la Mirkandolfo propone una roba presa e funziona vabbè gg ma per me non è nemmeno quello sai perché pensavo una cosa un po' di giorni fa io due anni fa immaginandomi adesso dove sono adesso avrei pensato ok sono arrivata sono contenta perché lavoro per aziende che mi piacciono insomma anche importanti e avrei detto ok sono arrivata sono contenta faccio quello che voglio io adesso mi trovo qua e dico no voglio di più ora voglio fare lo step successivo che non è lavorare per l'azienda ancora più grossa ma è proprio tutt'altro nella mia testa e quindi la ricerca per me è infinita e sarà infinita e ci convivo anche bene con questa cosa nel senso che è stimolante cioè se si dovesse fermare arrivi in una in una parte stagnante della vita dove non cioè che stimoli hai perché continui a lavorare ecco forse in questo troviamo un po' il discorso di prima cioè la tua la tua tristezza a volte nel mio caso non è la vera la classica tristezza ma è l'ansia ecco l'ansia mi smuove molto più della tristezza nel lavorare no oddio l'ansia la questione personale è mia no no io con l'ansia non ci convivo bene non ci disegno bene cioè se sono in uno stato di ansia cioè piuttosto meglio no ma però il fatto cioè nel senso se io ho ecco prendiamo anche questa roba qua se io ho un pomeriggio o una giornata libera dove ho consegnato quello che dovevo consegnare sospettando che quell'altro e quindi ho del tempo per cazzeggiare se io cazzeggio più di un'ora mi vengono i sensi di colpa quindi cosa faccio mi metto almeno a fare mi hanno detto tirondi 20 io l'ho fatto 17 comunque andiamo avanti mi metto a fare anche solo quel disegno che magari dopo riposto magari avrei voglia di giocare a magic no no non si può non me lo sono guadagnato no il senso di compito invece lo sconfitto negli ultimi anni nel senso se quella giornata non rendo non lavoro non ingrano bene cioè piuttosto meglio che ti riposi il giorno dopo a volte sì a volte no 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 ormai io ho preso questa mentalità almeno quella vigente per ora poi non lo so tra no ma è sana anche perché poi a volte incapponirsi quando ma non è tanto il discorso che quel giorno lì non ha voglia proprio quel giorno lì potrei fare il cazzo che mi pare ma anche la domenica che passare la domenica tutto il tempo a giocare a volte tipo domenica scorso sabato scorso o cazzo tutto il giorno arena arena ovvio ma in realtà l'attività anche giocare il videogioco è stimolante cioè aiuta a riempire ad arricchire l'immaginario ma sono d'accordo però alla fine alla sera mi sento in colpa no 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 io non l'ho capito troppo Mario l'ho sconfitta sta cosa io ce l'avevo bruttissimo cioè uguale l'ho sconfitta un giorno un giorno voi arriverete voi che avete quest'ansia costante di star perdendo il tempo cioè se bisogna si dice tutte le mattine mi darai fuoco voi voi inizia vi scontrerete contro un muro e e resterete lì stampati in 2D ma no guarda in verità per esempio io temevo molto in questa mia gestione con l'arrivo della figlia e invece devo dire che comunque un po' per la questione comunque dei nonni e tutto ce la stiamo gestendo bene io continuo con le mie ansie a sfamarle e io lo capisco troppo Mario cioè ad esempio io oggi sono uscito dal lavoro sono arrivato a casa ho fatto un mangiato ho fatto un po' di cose la live se io dopo che ho fatto il user live non mi metto a scrivere anche una pagina mezza pagina di un video io muoio cioè io sto male sto come un cane io Mario ti capisco ma tu ti carico mentre fai sta cosa cioè dopo la live non ho capito sei preso bene o sei stanco la fai stancamente e ti trascini dipende da quanta ansia ho se ho ansia la faccio da Dio ok ma lui è capace di uccidersi l'ansia è un motore è un motore preziosissimo quello si quello si ma lui arriva a ammazzarsi lavorano gli ultimi giorni vicino alle deadline non lavori per tutto il tempo ma Federico ragazzi quando fa le cose Federico lo fa tipo cioè non importa che domani mattina la svegli alle 7 ma se lui si mette in testa che deve fare quella cosa lui va a dormire alle 6.45 fa un quarto d'ora si sveglia e va e attenzione questa cosa non è sempre il massimo lo apprezzi lo apprezzi lo è mai non lo è mai però se non hai tempo di farlo capisco capisco perfettamente per questo non ti sparo perché tutto sommato dico vabbè non lo fa però c'è approccio approccio stranissimo io ad esempio guarda un sogno sì sì ma ovvio c'è nel senso credo che entrambi lo stiamo inseguendo questo sogno cioè siamo molto molto insieme in questa cosa però a differenza sua io forse lo faccio cioè pensare alla mia arte tra molte virgolette voi sapete io non la considero arte il mio masterare è tutt'altro cioè sono molto più vicino all'idea di Mario la considero intrattenimento cioè ci penso forse nei momenti 30 secondi 40 secondi al giorno 50 secondi al giorno nei momenti in cui proprio la mia mente vaga per quei lidi oppure nei momenti in cui devo fare riunione creativa mi siedo lì e accendo le cose sono uno che lavora di pancia tantissimo ma tanto 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 tantissimo invece tu non sai che ad esempio io come dicevi a Mario per me è disciplina sì 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 ovvio ovvio ma infatti come che noi due ancora non ci siamo ammazzati di coltellata non si sa però io quando quando masteravo vabbè diciamo che quando un master in un contesto tra amici hai meno ansia quindi però preparavo poco sì quindi c'è nel senso è vero che io sono ansioso però in certi ambiti invece l'ombra è la scintilla che è sicuramente una delle cose di cui sono più soddisfatto di aver fatto ma è 90% cuore veramente 90% cuore sto scherzando anche in quella che abbiamo fatto io e te Mario come lo sai io e Mario prima di questa è vero è vero di questa cosa abbiamo fatto delle live su Twitch a te io ho masterato un paio di volte guardami sul mio canale come ti dicevo l'altro giorno è stata la volta che per la mia maratona di compleanno credo del 2021 abbiamo fatto una ruolata con la Sara la Giulia Matt e Tommy one shot di un paio d'ore l'altra volta invece ho provato a fare una roba un po' più ambiziosa avevo chiamato Albi è il mio colorista Ivana Lodo e Tommy giocando con Dark Heresy è stato alla seconda abbiamo giocato due o tre mancava comunque una sessione per finire diciamo almeno il primo blocco abbiamo rinunciato perché era diventato un tale delirio aveva diventato un meme cioè qualsiasi cavolo di NPC diventava un meme ed era impossibile io provavo a tenere un attimo coerente con il canon esisti qua che erano ovviamente mandati sul campo di battaglia dall'inquisizione a fare arrivava la badessa della sorolita e le due sorelle che le mentivano in faccia sparando le stronzate ma mio ma mio vabbè Lodo che dice poesia poesia sai che cosa si fa in questo caso quando c'è qualcuno che fa accelerare un treno oltre qualsiasi limite si no devi lasciare andare tu prendi e cavalchi il tuono si avrei dovuto proprio cavalcarlo tu prendi e cavalchi il tuono era la mia esperienza avendo sempre giocato con i giocatori in moto io a quel punto a quel punto il gioco di ruolo il canon le cose io mi ricordo oddio il gioco di ruolo il canon le cose vanno in secondo piano e a quel punto l'importante è la narrazione essere a quel punto tu fai vabbè non è più wallhammer stanno raccontando la storia però dai qua siamo stati bravi cioè quando sarà da tenere il mood cioè abbiamo raga ma voi avete spaccato perché c'è avete mischiato avete fatto tutto avete avuto le scene sociali avete avuto le scene esplorative avete avuto le scene di combattimento esplorative esplorative bravo grazie voi avete avuto un miscuglio strano tra l'altro perché io le sessioni me le sto rivedendo e non avete giocato canonicamente voi avete avuto tutta una serie di meccanismi di giocate dei ritmi dei ritmi strafichi però non normali cioè non eravate né slapstick né quando facevate la comicità né totalmente nonsense avevate questo mischione bellissimo no no ma infatti il ritmo secondo me delle giocate perfetto cioè super godibile tra l'altro perché non non t'annoia ecco bellissimo bellissimo da vedere sarebbe sarebbe da rifare abbiamo anche un gruppo che io ho fatto e di cui io mi sono completamente dimenticato guarda perché ti devi tirare una martellata solo una zappà sui piedi dritti in questa maniera ero stavo zitto non mi triggerare ero stavo zittino buono buono manca ancora un mese dai ma ma io non ce l'ho il tempo te l'ho già detto l'organizzate lo vedete lo vedete com'è facile lavorare con Federico ragazzi stiamo parlando di un progetto che è ancora in una fase di preproduzione inizia fra un mese porca puttana è embrionale è poco più di un'idea fare le grafiche capire come cazzo è fatto il mondo i personaggi capire le adesioni di trozzo sette volte te l'ho detto tu capisci che ansia vivo Ivana quindi voi si è messi peggio di noi assolutamente ma tanto peggio però pensala così cioè se non ci fosse Federico che ti sculacciasse no 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 ma non farei un cazzo ma è vero non farei veramente un cazzo io allora ma io io non ci completiamo e io sono l'organizzatore dico dico una roba io sono sempre stato comunque di mio molto diligente e impostato e tutto ma io comunque mi sono fatto tre anni e mezzo di lavoro in ufficio come vabbè comunque in ambito comunicazione e marketing però in ufficio e secondo me quello mi ha comunque dato un'impostazione di un certo tipo senza e quindi Nino due mesi di miniera e vedrai mi aspettavo tutto tranne che questo discorso si sarebbe collegato a Antonino ma è scavare a prendere il carbone no ma comunque no ma serio cioè Federico allora io sono io di mio sono motivato eh attenzione sì ma quello però io non sono non sono un organizzatore ti manca la discirina io sono disorganizzato a dei livelli incredibili qui completiamo Federico poi è la roba che manca a me Federico è io sono molto più di pancia appunto Federico è un organizzatore nato ragazzi voi avete non so se la chat non l'ha potuto vedere ma i calendari di time to 40k di time to 40k sono stati un'odissea una persona solo una persona come Federico poteva fare una cosa del genere io gli ho detto Fede io non non ho la capacità di fare una cosa io mi confondevo a dover mettere nomi tabella lui ha fatto un excel per i calendari ragazzi con tutti i nomi e cose così poi ovviamente questa cosa ha dei lati positivi e degli enormi lati negativi negativi per te certo perché per la situazione in generale non si può caricare su qualcuno è inevitabile e Antonino è il bersaglio più facile certamente a volte se lo merita a volte no no poche le volte non se lo merita no ma ripeto io ho detto Nino ora se no madonna io ho fatto tante cacate senza di meno tante robe non ci sarebbero io ho fatto delle cacate di dimensioni straordinarie e Federico ha una pazienza a sopportarmi e ragazzi io arrivo bombardo quello che c'è da bombardare e poi dico oh no ho rotto tutto Federico arriva e fa sei un coglione ma adesso lo aggiustiamo è proprio questa la la dinamica la dinamica uguale uguale ben gioioso è stato una giornata così questo va bene eh sei te che non veni a Lucca sai che cosa potrebbe succedere se venisse a Lucca dai ripetoci no esplodo prenotare che ci vuole cosa vuol dire sono il dottorino no ma no 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 non so cosa significhi sono il dottorino il dottorino è il cacacazzo no Federico non è un cacacazzo Federico è tremendamente organizzato ma è quello che ci serve perché con gli altri set di Time to Dice se non ci fosse Federico che ha creato un clima un po' d'ansia quest'ora saremmo tutti ancora in vacanza no ma serve serve sì ma ovvio servono tutte e due i caratteri sì ovvio comunque io stimolerei questi ultimi dieci minuti magari la chat che si ha delle curiosità da domandare ai nostri ragazzi può domandare perché comunque ormai abbiamo alleggerito il mood io di domande se volete ne ve ne fa oltre cinquanta ma sono tutte belle ore basse pesantine quindi alleggeriamo ora alleggeriamo se qualcuno ha qualche curiosità altrimenti noi continuiamo a cazzeggiare amabilmente per altri dieci minuti e poi dopo ci saperemo io vado un attimo in bagno ecco proprio ora ti stavo chiamando in causa perché questa è una di quelle competenze dove cazzo vai che io non ho ad esempio di una stronzata e io dopo la sfrutterò sai cosa mi dicesti un giorno vai hai voluto la bicicletta mo pedali allora io adesso vorrei tanto spiegare quel giorno hai la borraccia Nino a Luca fumetto di Marlene D stand BD dateci un occhio voi sicuramente ne saprete più di me ma io fumetto ho ben presente cos'è lo stand BD io no non sono mai stato a Luca eh infatti quest'anno ti ci diverti lo svezzamento state tutti e cinque giorni o no credo che ne farò uno o due uno o due credo e ma allora prossimi progetti che avete per esempio Mario da banana dopo ci dici qualcosa scusami Ivana no no sì scusami che ho interrotto per dire questa cosa Mario no no dicevo vorrei poterne parlare ma ah vabbè ma c'è già pezzo a meno che io non volevo posso posso no posso ok vabbè Ivana illustrerà beh invece di se cagate tu Ivana comunque al di là della roba in DA serie tutto qualcosa che vorresti farli tu ce l'hai mamma mia eh immagino però qualcosa di un po' più focalizzato che hai in mente in questo momento c'ho tante cose che volano qui in pentola però a livello non riesco a tirare no certo sto concentrando l'energia su altre cose va bene non posso nemmeno parlare però ecco come progetti proprio interamente personali in questo momento in realtà ho in servo una cosina però sto aspettando il momento giusto per tirarla fuori mamma mia mamma mia il disco è terribile questo dei progetti cose personali l'hai pestata tu stavolta la merda è sempre male il cuoricino però cioè in realtà sono contenta così ho un bel periodo sto facendo cose che mi piacciono quindi per ora da quel punto di vista sono più che soddisfatta e non 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 cerco troppo in più rispetto a questo nel senso sempre traguardi incredibili irraggiungibili però si sta bene c'è una domanda di Wandering Fox un sogno nel cassetto riguarda possibili illustrazioni aziende a me piacerebbe tantissimo lavorare nel settore dell'industria videoputica che cazzo ci hanno aspettato ancora non lo so scusa scusa fare i concept per magari un sauce like chi lo sa quello che ci hanno aspettato v2 ancora non lo so però va bene speriamo speriamo insomma in questo momento dovessi porre un traguardo ecco sarebbe quello vabbè Ivana il The Ring la parte iniziale il filmato introduttivo io ci ho visto tantissimo del tuo nel senso molto le illustrazioni erano vicine al tuo stile quindi c'è più che un'illustrazione finita proprio il concept assolutamente in realtà io c'è alterno mi piace sì l'illustrazione quindi fare il dipintino bello carino però anche la parte di concept di concepimento di un personaggio di una creatura cioè ma Malenia stessa Malenia stessa che è sicuramente la cosa più iconica che c'è nel The Ring non ho fatica cioè non mi sembra un salto così grande rispetto a qualche tuo originale no? e oddio il paragone è bello grosso ci sta ci sta a un certo punto devi avere anche la botta di culo per lavorare per queste cose a un certo punto magari raggiungi il livello tecnico necessario però poi alla fine serve l'allineamento dei pianeti che tra l'altro tu una Malenia l'hai fatta se non mi sbaglio no? l'hai disegnata sì una Malenia tradizionale all'ultima edizione al Play no? no hai ragione al Play era la tizia sì 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 per questo che fino a fa ah sì vero se l'hai presa l'autopico vero vero perché se l'avrebbe rimasta lì non potevo portarmela e comunque potevi darla a me cioè nel senso però e non c'è di Roma e vabbè comunque una scusa e vabbè a Luca anzi non viene a Luca quindi non potrei partecipare all'asta suca Nino suca mi dispiace anzi un gaggi tra l'altro salpi che il disegnino che mi hai dato a Modena in questo momento è a Trapani messo nel libro dei disegnini quindi ah nel libro non è esposto ah capisco perché io secondo te sono uno di quelli che espone metto metto nelle nelle cornici io c'ho a prendere polveri io c'ho il libretto con tutte le paginine con la carta velata dove metto i disegni e cose così ah volevi essere incorniciata va bene incorniceremo incorniceremo mi raccomando cornice d'oro sì vabbè ora non esageriamo allora dorata dai sì di quelle in legno barocche oppure metto una fotografia di mana che mi guarda male cioè nel senso ci sta accanto al disegno esatto Mario invece per chi vorresti lavorare e a me piacerebbe Wizard in questo momento porca miseria bellissimo però cioè nel senso come facendo poi quello che tocca a me è da fare non sognerei mai di finire su una carta delle magic poi è vero che con certi Secret Laker hanno fatto un po' di tutto però tendenzialmente quello che mi piacerebbe fare per GV che adesso per un po' ho fatto adesso non stiamo facendo meno perché anche loro si muovono col culo però tutta la parte di un po' comunicazione un po' buffa fai le storielline lega io ve l'ho detto questa cosa qua non me la toglierò mai dalla testa delle pillole di lore di Warhammer fatte con uno stile un po' simpatico così sarebbero secondo me dal loro punto di vista molto utile e a me quelle robe lì quindi mischi un po' di mini fumettini ci metti la narrazione ci metti le robe che ti piace disegnare però le disegni in maniera anche un po' buffa un po' meno impegnativa senza ma sarebbe una figata quindi anche farlo con magic rettifio la risposta sogno nel cassetto lavorare per Enrique Evil sulla serie che probabilmente non verrà mai prodotto però vabbè come concept artist però con Enrique Evil che mi dice che ti sussurra che ti sussurra mi faccio mi faccio i viaggi nella testa di io che parlo col tizio diciamo dai facciamo un fumettino introduttivo per la serie così dopo mi scrivo con Kevil e decidiamo cosa vale un fumettino voi lo sapete che Enrique Evil ha vissuto per diversi anni a Monte Rotondo vicino Roma e che sa parlare italiano vero? vero? assolutamente Time to Forty K 3 ci proviamo? assolutamente sì Time to Forty K 3 è un messaggino io gli manderò un audio apposto così sì sì guarda non c'è un lavoro di pregare il profilo di K mare vuoi venire a esplorare le tetroscurità del quarantunesimo millennio bombardate in massa i profili di Enrique Evil Time to Forty K ma cos'è questo Time to Forty K eh no va bene ok per favore qua gli concediamo tutto a differenza di Amazon ragazzi il miglior talk fino adesso secondo me beh vabbè l'avrà detto a tutti lo dici con tu esatto no sapete che sono abbastanza ah il tuo personaggio è il più bello il mio preferito no Mario no la migliore sessione il miglior gruppo guarda per quanto mi riguarda per quanto mi riguarda questo qua è stato l'inizio deve rimbonirsi un po' no sapete perfettamente che ho una faccia di culo abbastanza grossa di dire mi sono annoiato o mi avete rotto il cazzo quindi no non ho che grazie ragazzi non ho altro da dire grazie fammi in chat team Mariolo team Mariolo esatto esatto dovremmo fare lo sticker l'emoticon per gli abbonati del Mariolo è importante ve lo disegno io grazie non voglio niente per la gloria accollata per la gloria del cazzo vittoria ma basta che ci se ci puoi dare per favore col formato dell'emoticon direttamente proprio lo sticker del Mariolo e noi ma basta direttamente il png di quello ma lo so di russo di russo ma ve lo faccio anche meglio cioè facciamo le cose fatte bene per il meme è questa che si chiama felicità molto dedica è questa che si chiama felicità Mario non mi sembra contento Mario ma ghigliottinato è di ghigliottina di ghigliottina ferisci di ghigliottina perisci o di ma è una ghigliottina o di piccoli maglioli allora ragazzi vi ricordiamo punto esclamativo link per andare a trovare i profili dei ragazzi qua presenti degli altri giocatori di time to 40k vi ricordiamo di del nostro sponsor Ars Manufactoria ha finanziato tutto se dovete andare a comprare qualcosa del 40.000 o di Warhammer o di altri giochi da tavolo buttatevi in occhio perché è tutto sempre molto scontato sempre molto conveniente è un gran customer service o se dovete passare da Brescia come dice giustamente il Morde ciao Morde e vi ricordiamo punto esclamativo sconto per i codici sconto da spendere sul sito Need Games per acquistare materiale di Wrath & Glory domani sera siamo di nuovo live alle 21 prima sessione del party caotici preparatevi al delirio non siate pronti ragazzi un abbraccio andate a salutare la strobata fateli fateli fatevi salutare grazie arrivederci buonanotte a tutti bye bye buonanotte ciao 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 Grazie.